Non si ferma l'azione dei criminali anche in periodi di emergenza sanitaria. Gli agenti del commissariato di Canicattia, gli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno denunciato due soggetti in particolare dopo un intervento in piazza 4 novembre per ricevere la denuncia di un uomo che riconosceva l'autrice di un furto e i suoi danni. L'uomo riferiva che il giorno precedente era uscito da casa per comprare le sigarette e effettuare un versamento bancario. Nella piazza centrale della città di Canicattia è stato adescato da una donna, secondo il suo racconto, per un rapporto sessuale per il quale concordavano il compenso di 20 euro. I due si appartavano in un vicolo del centro storico. Qui la ragazza, con un gesto repentino, sottraeva con strappo il portafogli che l'uomo aveva in mano per il pagamento della prestazione e scappava. Gli accertamenti investigative hanno consentito all'uomo di riconoscere la donna che poco prima lo aveva derubato. Questa, con precedenti polizie specifici e sottoposta agli arresti domiciliari, è stata denunciata all'autorità giudiziaria per furto con strappo e evasione in osservanza dei provvedimenti dell'autorità. Entrambi, però, sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Nel corso delle verifiche ad esercizi commerciali aperti, inoltre, sono stati controllati diversi esercizi commerciali. In un esercizio alimentare del centro storico non è stato trovato il titolare, ma a suo posto un giovane che espletava l'attività privo di prevista autorizzazione. Il responsabile del piccolo supermercato è stato sanzionato con una sanzione amministrativa di 1.032 euro e il ragazzo denunciato per inottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non svolgendo regolare attività lavorativa, non aveva alcuna giustificazione per uscire da casa.